Musica Benvenuti oggi 5 novembre. Il salto del giorno è San Zaccaria. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il cantante Brian Adams. Ed ora, passiamo all'oroscopo. A dieta, giornata ricca di alti e bassi nel cuore e della mente. L'atmosfera generale un po' turbolenta sarà addolcita dal vostro innato senso dell'equilibrio. Cautela nei rapporti. Toro, non mettetevi a combattere contro i mulini a vento. Accettate la realtà ed adeguatevi alle sue esigenze. Non sarà tutto facile, ma ce la farete con l'aiuto della persona amata. Gemelli. Il vostro rapporto con la persona amata si sta consolidando a poco a poco. La comprensione reciproca vi aiuterà a risolvere gli ultimi problemi e il dialogo sincero vi permetterà di comunicare. Cancro. Avrete la possibilità di giovarvi di una notevole intraprendenza per poter agire in modo decisamente risoluto. Non cadete nell'errore di prendere una posizione irrimovibile. Leone. Con tanti pianeti contrari è comprensibile che vi sentiate un po' abbattuti. Cercate di reagire a questo stato d'animo, dedicandovi a qualche cosa che vi piace. Vergine. Meglio rinviare alla prossima settimana un viaggio di lavoro, anche se presenta caratteri di urgenza. Prendete tempo per studiare a fondo la situazione. Un invito piacevole. Bilancia. Uno sguardo particolare meritano le vostre finanze. Cercate di essere più presenti sul lavoro. Non lasciate cadere un progetto importante. Nuovi stimoli in amore. Scorpione. I rapporti con gli amici tendono a farsi più razionali, ma anche un po' polemici e coinvolgenti. Spunti interessanti nella vita sociale, ma inediti. Occorre un po' più di ordine. Sagittario. Si verificheranno incontri e potranno nascere nuovi sentimenti, ma anche sorgere dubbi, illusioni e smarrimenti. L'importante è vivere sempre e molto intensamente. Capricorno. In famiglia vi sentirete poco apprezzati e avvertirete scarsa partecipazione ai vostri progetti. Poiché tutte le decisioni dovrete prenderle da soli, riflettete a lungo. Acquario. Nel rapporto di coppia una piccola delusione può diventare una noiosa discussione, probabilmente causata da una decisione presa dal partner. Maggiore autocontrollo. Pesci. Mettete un freno al vostro spirito di iniziativa, non avete ancora una visione esauriente della situazione. Procedete per gradi, parlatene con chi amate, vi consiglierà. Proverbio del giorno. Se l'arcobaleno ti appare di mattina, bada che il brutto tempo si avvicina. Questo è tutto per oggi. Arrivederci a domani. Grazie. Grazie a tutti.